Salve telespettatori di Arabi TV, benvenuti a questa puntata dove tratteremo l'argomento della scrittura, della letteratura e della poesia. Mi presento le nostre ospiti, Vincenza Alfano e Argia Di Donato. Ciao Alfredo, saluto gli amici di Arabi TV. Allora, partiamo da Argia Di Donato che ha scritto di recente un libro dal titolo Luna Tonda. Sì, allora voglio ricordare una cosa per anche gli amici a casa. Proprio in questi giorni c'è stato il perigeo che sarebbe appunto la luna più tonda che viene ogni tipo 17-20 anni, quindi siamo perfettamente in tema di luna. Il mio libro appunto che ho scritto è Luna Tonda. Alfredo racconta la storia romanzata, la biografia romanzata di un ex calciatore, un ex terzino sinistro, Luciano Marangon, che credo tu conoscerai sicuramente. Sì, sì, noi napoletani conosciamo abbastanza questo ex giocatore. Sì, lui ha giocato in cinque squadre di Serie A, nel Verona, nell'Inter, nella Vicenza, nel Napoli e nella Roma ed è cresciuto nelle giovanili della Juventus, quindi in questo libro raccontiamo insieme, perché poi in realtà è un libro scritto a quattro mani, raccontiamo insieme i suoi ricordi e le tappe fondamentali della sua vita. Allora, prima di addentrarci nel racconto di questo libro, invece l'Alfano ha scritto un libro via Dalì. Perché? Dalì da dove bisogna andare via? Non è sicuramente un luogo fisico, anche se lo richiama indubbiamente, come anche la copertina del libro, i luoghi citati, perché è una storia ambientata a Napoli. Però Dalì intende una situazione sottesa, uno stato d'animo, una situazione emotiva molto forte che si verifica in una famiglia, una famiglia borghese, una famiglia dove a un certo punto un fulmine al ciel sereno, il bambino più piccolo di cinque anni non parla più. E quindi c'è questo... Si chiude in un mutismo. Si chiude in un mutismo anche con delle manifestazioni quasi isteriche. Da ciò incomincia un viaggio, un viaggio dentro Napoli, perché questa famiglia deve interfacciarsi con le istituzioni, con la sanità, con i medici, con le altre famiglie, con il mondo della scuola, degli altri bambini e nello stesso tempo un viaggio dentro se stessi, perché marito e moglie si uniscono, sono molto forti, si crea un legame quasi simbiotico con il bambino e tra i genitori per cercare di capire da dove è nata questa problematica. E quindi non è un giallo, assolutamente non è un giallo, però tiene il lettore con il fiato sospeso perché indubbiamente c'è questa ricerca. Questa ricerca e questo non arrendersi, perché in realtà arriva una diagnosi, una diagnosi medica molto, diciamo, difficile da accettare e che la mamma Carmen, la protagonista, non accetta assolutamente decisa a continuare a lottare per la vita di suo figlio, perché pensa che sia un diritto di questo bambino avere tutte le chance come gli altri. Quindi volersene andare in qualche modo da uno stato di sofferenza molto forte, volersene andare anche in parte dalla città, dico in parte perché c'è un rapporto molto forte che lega questa donna, questa famiglia alla città e la città dove hanno fatto le loro scelte, dove hanno progettato il futuro proprio, dove sono nati. È una città bellissima, affascinante, sono descritti i loro... Guarda, questo tuo racconto mi fa in mente un po' il dramma che molti nostri coetanei stanno vivendo, che sono costretti a lasciare la nostra amata Napoli per trovare lavoro fuori, per poter sopravvivere. Ecco, magari leggendo il tuo romanzo potranno rivivere i sapori della nostra città. Mentre da Argia voglio sapere perché un calciatore ti ha ispirato la scrittura di un libro. Allora, Alfredo, la verità, se proprio devo essere sincera, non è che sia stato lui proprio in prima persona ad ispirarmi, è stato lui a chiedere, perché lui in realtà aveva letto delle cose scritte da me e confessando insomma che il mio stile lo aveva colpito, pensando... Ricordiamo, non sei delle spettature, che sei anche una poetessa. Vabbè, diciamo che mi diletto nella difficilissima arte della poesia. Quindi, come ti dicevo, Alfredo, in realtà lui aveva letto qualcosa di me, era rimasto colpito dalla mia scrittura e, poiché ha sempre avuto una grande passione per le donne, questo bisogna dirlo, ha detto, ha pensato, insomma, mi ha confessato poi successivamente che aveva sempre questo sogno nel cassetto di scrivere un testo che racchiudesse le sue memorie, i suoi ricordi, che descrivesse i suoi principi, i suoi valori di vita. E ti devo dire la verità, che io mi sono approcciata inizialmente con una sorta di pregiudizio, magari sbagliando, perché pensavo che i calciatori fossero semplicemente delle macchine da guerra. Invece ho scoperto un uomo, come dico appunto nell'incipit con le sue luci e con le sue ombre, che mi ha insegnato molto. C'è da dire poi questo, Alfredo, che questo libro viene scritto in prima persona e la difficoltà che c'è stata da parte mia è stata appunto quella di cercare di scrivere con la sua voce, con il suo modo d'essere, il suo pensiero. Hai fatto un po' da megafono. Sì, ho fatto un po' da megafono e la difficoltà da parte sua invece, per converso, è stata quella di aprirsi, perché Luciano è una persona molto discreta, è una persona che non ama molto raccontare di sé. Ecco, però che tipo di uomo è emerso da questo tuo dialogo? Allora, io l'ho definito un nomade nudo che danza sul cuore del mondo. Luciano è una persona, è uno zingaro, nel senso che è un girovago, è uno spirito libero, non è soggetto e non ama i compromessi, non ama piegarsi, non ama le regole che la società umana impone un po' a tutti quanti, quindi da questo punto di vista è un cane sciolto, è un cavallo impazzito, è un puledro, io lo immagino un po' come un giovane puledrino che cavalca su questa spiaggia libero. Lui ha inseguito per tutta la sua vita la libertà, questo poi emerge nel testo in realtà, perché poi il testo descrive in realtà una situazione presente, poi al ritroso vi sono dei flashback che sarebbero appunto i suoi ricordi, quindi dall'infanzia all'adolescenza, alla sua esperienza calcistica, perché poi lui, Alfredo tieni presente, non so se ricordi, ma lui è uscito via dalla famiglia, insomma è andato via dalla famiglia da casa che era giovanissimo, aveva tipo un 10-11 anni. Sì, è un po' il destino di tutti i calciatori. Esatto, e quindi anche questo suo interfacciarsi con il mondo del calcio, le regole del calcio, un mondo patinato, un mondo falso, un mondo glitterato, per così dire, che fa, ti accarezza, no? Quindi fa emergere fuori, fa uscire fuori di prepotentemente la tua vanità, ma in realtà non... Se non si è forti dentro... Bravo, e questo pure emerge nel libro, se non si è forti dentro poi rischi di essere fagocitato da questo mondo, perché fin quando tu sei, ecco, sulla scia, sulla grezza dell'onda, vieni portato da tutti, tutti ti vogliono, tutti ti desiderano, eccetera. Un po' come anche per i giornalisti questo. Sicuramente è così. Allora, invece da Vincenza, mi piacerebbe sapere quali difficoltà hai incontrato quando ha scritto questo libro, dall'idea alla realizzazione. No, io devo dire che è stata una scrittura semplice. Ho affrontato questo progetto con grande istinto, ed è una scrittura che è venuta fuori quasi di getto, per immagini. Io non amo gli schemi precostituiti, non faccio scalette, organizzo capitoli, ma vedo, vedo la storia nel suo svolgersi e ci penso molto. Ci penso quando non sono... Ma hai avuto una visione unica oppure più visioni? No, ho avuto una visione unica che è proprio il filo esile dell'intreccio. Sempre storie molto semplici, almeno all'inizio io parto da progetti semplicissimi. Cosa voglio dire? Cosa voglio comunicare? Quindi inizio e fine. Inizio, svolgimento, fine. Nello scrivere invece vado a tappe. Quando chiudo un capitolo, poi passo tutto un periodo di tempo in rimurginazione e cerco di catturare l'immagine che mi aggancia al capitolo successivo. Infatti mi hanno detto che è un libro molto visivo, cinematografico, ed è vero. Magari domani vedremo un film che si ispirerà allo tuo... Sì, qualche progetto devo dire c'è, proprio di questo tipo. Ah, mi fa piacere. Si pensa ad una possibile sceneggiatura, trarne una sceneggiatura. Mentre, Argia, tu hai detto che praticamente sei stata una specie di megafono delle sensazioni, dei ricordi del Marangon. Però ecco, l'uomo ce lo hai descritto, ma il calciatore, che calciatore era Luciano Marangon? Alfredo, devi calcolare che c'è una differenza tra me e Luciano di 20 anni, per cui quando lui giocava, io ero presto a poco una bambina, nell'80 lui giocava nel Napoli, io avevo 4 anni, quindi diciamo che lo conoscevo per sentito dire, ma non più di tanto. Mi sono informata, naturalmente mi sono documentata, quant'altro, ho appreso che era un calciatore anche abbastanza bravo, insomma. Lui è un ex terzino, cioè un terzino, quindi sulla fascia sinistra però faceva, era molto... No, era molto apprezzato. Sì, era molto apprezzato. Molto conosciuto anche per, come ti dicevo prima, per la passione che ha per le donne, che conserva tuttora. E poi soprattutto, vabbè, non ti dico perché poi siamo diventati amici, perché sai, quando si scrive un libro con una persona e quindi si raccolgono le sue memorie, avviene un po', si crea un po' un rapporto tipo psicologo-cliente, insomma, perché... Paziente-terapeuta. Paziente-terapeuta, bravo. E quindi si entra in un rapporto simbiotico, quindi siamo diventati molto amici e è successo che siamo andati a cena fuori con le sue amiche, i suoi amici, le sue ex-modelle, insomma. Ti sei dimenticato di me? Eh? Quando non mi hai invitato... Tutte bellissime donne, anche un po' su con gli anni, bellissime, stupende. Vincenzo, vedi? Eh, vabbè. Ci si dimentica sempre degli amici nel momento del bisogno. No, vabbè, io comunque ti inviterò sicuramente a una di queste prossime cine, però quello che volevo dire anche ancora su questo libro è che in realtà questo è un libro particolare per me, perché è completamente fuori dal mio progetto artistico-letterario, nel senso che mai avrei pensato nella mia vita di dover scrivere la storia di un calciatore. Allora, per quanto riguarda invece il futuro, Vincenza, cos'è che bolle in pentola? Bolle in pentola un altro romanzo, diciamo, ho già quasi finito la prima stesura. Puoi darci un'anticipazione oppure sei scaramantica? Diciamo che sono scaramantica, posso dire che è una storia completamente diversa, con una struttura corale, ecco, di più personaggi, con una lettura a più livelli. Altro preferisco non dire, voglio lasciare la suspense. Va bene, mentre so che la penna di argia non è mai ferma, ma si muove sempre. Sì, prossima pubblicazione, con mia grande gioia, un testo a cui sono molto affezionata che dedicherò, è dedicato in realtà già, a tutti i bambini di Napoli, perché poi parla di Napoli, è stato scritto per i bambini, osservando bambini per le strade di Napoli, perché poi in realtà quello che più mi sta a cuore è appunto i bambini, è l'infanzia. Sì, e quindi, vabbè, però non dico neanche il titolo, Enza lo sa, noi siamo anche amiche nella vita privata, tra l'altro devo dire che ho letto il suo libro, non voglio fare pubblicità progresso, Enza, ma tu mi consentirai, è un libro fantastico, perché questo lo devo dire perché l'ho letto, se tu mi consenti Alfredo, perché magari i spettatori possono, io prendo l'iniziativa, non l'ho pagata, no, 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 ci siamo conosciute da poco, ma siamo subito entrate in simbiosi perché siamo accomunate da questa passione, la scultura e poi tante altre cose, facciamo parte insieme di un movimento culturale, liberiamo il cratere, insieme a Elena Varriale e a Diana De Giulio, abbiamo avuto anche modo di essere ospiti altre volte qui, dati Alfredo, e ti devo dire che la cosa che mi ha colpito di questo libro, al di là della vicenda che è molto interessante, scottante, insomma è abbastanza, purtroppo, attuale, quello che mi ha colpito è questa Napoli, questa Napoli molto presente, come se fosse uno sfondo, come dire, ecco, una personalità, è una Napoli personale. Interrompo, perdite, noi napoletani ci accorgiamo di essere napoletani quando siamo lontani dalla nostra città, in realtà noi dovremmo avere più amore quando viviamo a Napoli, perché Napoli, non sono io a dirlo, è la città più bella del mondo, è la città dove la cultura si mescola alla bellezza, all'arte, alla storia e vederla mortificata oggi da una classe politica dirigenziale pessima, sinceramente fa male al cuore. Certo, non devi dire queste cose in mia presenza, perché sai perfettamente che mi infervoro tutta quando si tratta di questi temi sociali, io sono innamorata della mia città e lotto con tutte le mie forze, come avvocato, come giornalista, come scrittrice, cerco di dare un contributo minimo, naturalmente, per la rivalutazione, perché francamente sono anche stanca di sentire che Napoli è una città pesce, è una città, voglio dire che sono in mezzo alla strada, perché svolgo un lavoro particolare, come tu ben sai, veramente Napoli è una città invece ricca di talenti, ricca di arte, ricca di cultura, è un fermento, è un cratere, appunto liberiamo il cratere, per questo l'abbiamo chiamata così. E quindi è anche compito, insomma, di ogni cittadino essere legato alla propria terra, apprezzarla e difenderla. Dobbiamo essere all'altezza di essere napoletani. Sì, dobbiamo essere all'altezza, perché noi abbiamo una città che è importante, e questo per ricollegarmi poi al discorso del libro di Enza, che questa Napoli è proprio un personaggio.